Ben trovati, in quasi dieci anni di attività, attività hobbistica ha realizzato tanti oggetti, oggetti del passato, oggetti che non ci sono più, ma anche nuova produzione, nuovi oggetti, dal flauto di pan alle pipe, con canna americana a cappelli, canestri, borse, tutti oggetti che potete vedere accanto a me. Ma l'ultima produzione di Corrado Ferla e quindi abbiamo presentato l'ospite di questa odierna trasmissione è il Pinocchio, una variegata tipologia di Pinocchi che vedremo e scopriremo anche come vengono realizzati e prodotti. Fra l'altro abbiamo conosciuto Corrado Ferla qualche mese fa, era dicembre, ha partecipato ad un concorso bandito dal comune, concorso che ha poi vinto, per la realizzazione di un presente artistico utilizzando sempre quel materiale che vi stiamo mostrando ora. Vedremo anche come nasce un personaggio nella fattispecie Pinocchio dalle mani di Corrado Ferla, ben trovato. C'è una domanda che più di ogni altra in questo momento mi intriga. Io ho visto che tu utilizzi tanto materiale, l'agliastro, ma anche materiale che vai raccogliendo nelle diverse campagne per realizzare borse, pipe. Ora c'è il Pinocchio. Ma mi intriga questa domanda. Perché proprio il Pinocchio, cioè una serie immensa, sconfinata di Pinocchi? Buonasera, mi trovavo qua nel garage, mentre ero vicino al banco. Sono scesi i miei due nipotini, uno Corrado e l'altro Lorenzo. Mentre che facevo qualche cosa, uno di loro mi ha detto di realizzare un Pinocchio. E allora così ci siamo messi a discutere come lo dovevamo fare. E sono incominciato a fare questo Pinocchio. Da un Pinocchio, e poi mi sono piaciuti, ho continuato a realizzare uno, due, che fino a che sono arrivato quasi a quindici Pinocchi. Questo Pinocchio ha una tradizione che i bambini, basta che sentono parlare di Pinocchio, di questo naso che dicendo le bugie si allunga, oppure viceversa, dà un senso che si ritorna al passato, da una vecchia storia di Pollode. Tu saresti il geppetto. Ma diciamo che tutte le persone che vengono qua a visitare, che scendono giù in garage, dai turisti, vedendo questi Pinocchi mi definiscono un geppetto. Però io non sono un geppetto, questi li faccio solo per hobby, non è che li faccio solo per... È un passatempo mio, come ho rialzato altre cose, ora stanno subentrando i Pinocchi. Ecco, a proposito, io tornerei al flauto di panna, o vedo che tra le mani tu ne tieni uno, ci fai qualche accenno musicale, anche perché sappiamo bene che, questo me l'ha detto il regista prima di iniziare, che in base alla lunghezza poi c'è un gioco... Vengono fuori le note. Allora, io non sono pratico personale, però giustamente qualche cosa si nota. Questo qua sono persettini di canna, tagliati mezzo centimetro di differenza uno con l'altro, per questo vengono fuori le note. Io ti voglio dire, mi è venuto un ricordo, era il lontano, 1976, la prima volta che ho visto questo strumento, era a Pisa e sai chi lo suonava? Sicuramente il regista mio lo saprà. Un gruppo famosissimo, gli Intillimani, andavano in giro con questi strumenti, molto più grandi, molto più soltuosi, facevano un suono potente e io li ho visti per la prima volta, 75-76, a Pisa proprio gli Intillimani. Torniamo, prego. Io posso dire una cosa, le note escono fuori con un po' di fiato, più grossa è la canna, più fiato ci vuole per uscire la nota. Questi qua, essendo proprio piccolini, basta un piccolo soffio, la nota viene fuori. Come viene lavorata questa canna? Ma viene lavorata, prima viene raccolta, poi viene essiccata pure e poi viene tutta tagliata, come ho detto poco fa, a pezzettini e unita l'uno con l'altro. Ora noi ci fermiamo un attimo perché vogliamo riprenderti mentre lavori, mentre realizzi un Pinocchio e poi ritorneremo a parlare del tuo lavoro. Grazie a tutti. 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 Ritornerei a Pinocchio e ritornerei a Geppetto. Hai detto che coloro che vengono a farti visita, turisti che vedono i tuoi lavori, ti definiscono il Geppetto perché realizzi questo Pinocchio, lo sappiamo tutti, il padre del Pinocchio è proprio Geppetto. però mentre Geppetto realizzò un solo Pinocchio e tutti sappiamo la storia del Pinocchio, tu qui fai decine, centinaia di Pinocchi in tutte le varie maniere, il Pinocchio seduto, il Pinocchio dipinto, il Pinocchio che potrebbe diventare come quello che è la mia sinistra, un portaborse o altri oggetti. Perché? Perché dal Pinocchio nascono decine di altri Pinocchi, dall'immagine della figura originale del Pinocchio ecco gli altri Pinocchi. Allora, la storia è giusta che Geppetto ne ha realizzato uno, io invece ne sto realizzando diverse perché siccome mi piace anche regalarli qualcuno, come già l'ho fatto regalate, mentre qualcuno che viene qua sotto le piace e ci piace pure comprasselo, portasselo pure un ricordo di notte. Un souvenir di notte. Un souvenir di notte. Il Pinocchio è il Geppetto. È il Geppetto perché anche che io glielo do alla signora ha il piacere di farsi la foto, di farsi la foto insieme a me come ricordo di chi aveva realizzato questo Pinocchio. Grazie, maestro Corrado, artista, artista a tutto tondo perché con delle umile canne. Io ricordo sempre quello, il canestro realizzato con l'agliastro e canne di fiume e realizzi questi esemplari molto belli. È tutto. Da Corrado, nella Fattispecie, Mastro Geppetto, dal Pinocchio alla mia sinistra e da me, grazie a tutti. L'appuntamento è per le prossime trasmissioni.